Pedro allora e guarda vedrai che qui le troviamo è perché qui siamo voi sapere il posto? più o meno siamo in provincia di Varese c'è pieno di quelle piantine qua di Biancostino c'è sia Biancostino che i frascidi quindi qui sicuro che le troviamo va bene dai cerchiamo dai bella Petro bella bella guarda guarda la Lidi ci aspettava noi ecco questa qui è una sculenta varietà sculenta bella ne? bella Franco parla piano e non facciamoci sentire perché qui siamo in una zona che magari passano e guarda lì e qui c'è pieno di morchelle guarda questa qui e poi se ti sposti piano piano vai a vedere qui guarda ce n'è uno due tre qua la piccolina lì la lascio se riesco a lasciare la piccolina ecco 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 una bella belle grosse cazzo due ma che belle belle e questa la prendo lasciamo solo la piccolina lì vediamo tra tre o quattro giorni come si sviluppa bella 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 ecco parliamo piano perché qui vicino c'è una villa e magari se ci sentono capiscono che stiamo prendendo le morchelle guarda questa qui bella anche questa sana eh sanissima sanissima prendo anche questa eh? come prendo? questa bellina prendo quella lì è bella non prendo questa è bellina invece questa qui che c'è vicino guarda questa qui è già bellina eh me la lascio qua eh lasciamo lì proviamo venire tra tre o quattro giorni a vedere la vedi? si 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 la vedo la lascio lì proviamo a venire tra tre o quattro giorni a vedere com'è hai visto che abita che c'è qui Franco? il muschietto e tutto il muschietto l'erba e qui ci sono dei bei frassinetti ma dove siamo qui ce ne puoi dire dove siamo eh non posso è segreto siamo vicini a una villa ma non posso dirti il posto perché è segreto lo sai che ti ho portato qui ti ho bendato gli occhi eh lo so non posso dirti dove è mi faccio continuo inciampare due e una tre guarda ecco qua tre piccolina lì la lasciamo eh belle 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 pietro oh vieni qua dove ma vieni qua da me ah non dirmi che li trovate qui perché qui non li trovavo eh vieni qua vedete mi sento male guarda guarda due ce n'è guarda guarda che bella pietro questa qui e una lì questa qui teniamo su è gnocco eh guarda bella questa qui e questa qui un po' più piccoletta ma è bella vabbè prendiamo anche quella dai dai guardate guarda un po' come si nascondono guarda dove è in mezzo alle foglie secche ma non si vede guarda che roba licoricata non si vede non si vede questa e poi ce n'è una bella di avanti adesso prendo questa qui ecco fatto bella e poi ce n'è una dove è eccola la vai vedere la porto qui guarda la di dove c'è una giumata in mezzo alle foglie eccola lì bella è quella eh guarda in mezzo alle foglie guarda che bella una e una due tutte belle spugnole hai visto franco siamo tornati e su quel posto dove quattro giorni fa esattamente abbiamo lasciato quelle piccoline per vedere quanto si sviluppavano ecco qua questa è una poi ce n'è una più avanti adesso la prendo vedi la taglio qui è sta qui è una morchella esculenta varietà esculenta vedi che è tutta gialla ecco però ecco questa qui quando l'abbiamo lasciata quattro giorni fa quindi sono passate ben quattro notti e ha piovuto tra l'altro anche mi aspettavo di trovarla più alta invece è cresciuto bene perché prima era come una nocciolina adesso guarda è alta un 7 8 cm questa è l'altra vedi che ne avevamo lasciate due le altre le avevamo prese ecco questa qui forse è un po più cresciutella ma non tanto adesso taglio e la vediamo anche dentro è questa qui è cresciuto di più vedi guarda è vero vediamo dentro perché sono stati due notti all'acqua vediamo se sono belle sane sì sì sono ancora belle sane guarda sono belle bianche sono sono ancora belle bianche anche se cominciano vere macchioline gialle dove cominciamo la carne un po potre fare un pochettino comunque hai visto è un bel sono tutti e due morchella esculenta varietà esculenta è una bella esperienza eh sì abbiamo visto ci vogliono da piccolini ci vogliono 4 giorni praticamente a crescere che ci vogliono divino qui ci vogliono da piccolini ci vogliono sia Body di quello della Kim Ermungachina depuis questo magariisha che sbagliare le cose iniziano e qui vogliono tutto vårt hopeful è un Västia è davvero alc andando so molto presto esciutto